Buon sabato, ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini, Prudenza, c'è pioggia nella Toscana centrale e neve sopra i 1200 metri. Veniamo in A1, coda per lavori tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze, rallentamenti sulla FIPILI tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli in direzione di Livorno. Sulla 1 ricordo, lavori di manutenzione dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì 23 aprile chiusa la stazione di Pistoia in entrata verso Firenze. Altra chiusura sulla 1 direttissima dalle 21 di lunedì alle 6 di martedì 23 aprile il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica, la Quercia e Aglio in direzione di Firenze. E veniamo proprio a Firenze, lavori in via Palazzuolo, una nuova postazione interrata dei rifiuti, la strada resta chiusa tra via Benedetta e via dei Canacci fino al 13 giugno. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!